Nuovo record per i senza lavoro in Italia. I dati diffusi oggi dall'Istat confermano una volta di più quanto la situazione occupazionale nel bel paese rimanga critica soprattutto per i giovani. Nel mese di settembre il numero di disoccupati è stato di 3.194.000, in aumento dello 0,9% rispetto al mese precedente del 14% su base annua. Quanto al tasso di disoccupazione si è attestato al 12,5%, si tratta del valore più alto di sempre, sia delle serie mensili, gennaio 2004, sia di quelle trimestrali, primo trimestre 1977. Ed è ancora allarme per la disoccupazione giovanile. A settembre il tasso di disoccupazione nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni è pari al 40,4%.